fa troppo caldo molto meglio fa troppo freddo meglio fa troppo caldo qui fa troppo freddo è così divertente Sara il freddo è meglio no il caldo è meglio il freddo è meglio caldo no il super freddo caldo freddo detto freddo questa è la mia camera fredda questa è la mia camera calda wow la mia camera calda è così bella adoro la mia stanza ora di andare da me uno due tre wow è la mia stanza fredda la mia camera calda idea facciamo le palle di neve oh no questa è molto grande jason ah ah mi hai mancato giochiamo con la mia macchina oh no è coperta di ghiaccio oh no non funziona per niente Sara puoi aiutarmi? aspetta posso aiutarti fatto wow ecco a te jason mille grazie Sara hai visto jason il caldo è bello no Sara hai bisogno di ghiaccio ecco a te ora va meglio sì grazie jason fantastico vedi il freddo è molto meglio ho un po' di fame mangiamo ah ouch è congelato i miei denti posso aiutarti grazie Sara bene ora aspettiamo dieci minuti uh è pronto bene è bellissima ecco tieni jason grazie mille buon appetito grazie grazie ho fame vediamo cosa abbiamo qui sediamoci oh cos'è questo? oh brucia jason aiutami che cosa c'è che non va? brucia una tozza di acqua e ghiaccio sarà perfetta prepariamo l'acqua fredda questo l'aiuterà wow ora va meglio grazie jason vedi il freddo è meglio sto cucinando oh no oh no jason aiutami vieni jason il pavimento è di lava jason aiutami corri no lava oh no jason aiuto ti prego forza jason non ti preoccupare ti sto aiutando Sara ottimo lavoro jason grazie grazie mille ha commesso un errore il freddo va bene anche il caldo va molto bene iscrivetevi ragazzi iubi sto giocando oh yeah che cosa sta succedendo? oh oh il pavimento ora è lava che sta urlando? oh jason devo salvarti alex salvami dammi un secondo come faccio a salvare jason? come faccio? oh questo va benissimo direi che questi tre vanno bene prendi questo jason uno due e tre forza adesso vieni qua ok sto arrivando forza vieni oh oh cavolo sta arrivando la lava forza corri corri da questa parte forza andiamo la lava sta arrivando forza cavolo sta arrivando alex sta arrivando la lava hai ragione come possiamo uscire di qui? dobbiamo chiamare i pompieri jason forza prendi questi cussini per scappare uno due forza forza e tre ora dobbiamo chiamare i pompieri oh sì è scappato oh no quegli squaletti hanno bisogno di aiuto forza andiamo ho salvato gli squaletti usiamo un bel getto d'acqua jason ti prego salvaci sta funzionando sta funzionando wow ora è tutta acqua grazie mille jason sì ce l'ho fatta quanta acqua squaletti ora potete nuotare boom 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 ok andiamo in cucina cavolo no cavolo no il pavimento è lava oh no forza sali qui wow guarda tutta quella è lava oh no e ora che facciamo oh no alex c'è così tanta lava che facciamo ah non lo so oh ma ho un'idea aspetta pop corn mettili sul fondo spero che questo funzioni guarda arrivano i pop corn prendi qua prendilo forza pop corn guarda quanti non ci credo pop corn all'infinito ah ancora ma quanti ce ne sono è assurdo ancora ancora e ancora 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 non ci credo ce ne sono tantissimi la lava è utile per i pop corn forza andiamo ed ecco come puoi usare la lava per i pop corn ora si che sai come usarla bene iniziamo la lezione il ghiaccio è caldo o freddo? ah? non c'è nessuno? ok non c'è problema dormirò tu hai fatto i compiti? certo che no ehi insegnante stai dormendo? io li ho fatti i compiti? no non li ho fatti il professore sta dormendo lal ehi Alex l'insegnante sta dormendo gli facciamo uno scherzo? ma certo ok andiamo forza dammene uno Sara tieni grazie andiamo sei pronta a svegliarlo? sì molto bene tre due uno cosa sta succedendo? tornate a posto meglio andare a posto e non fatelo mai più ok? ok ok bene il gelato è caldo o freddo? Alex e Sara che dite? il gelato è caldo super caldo e bruciante sì secondo me è caldo risposta sbagliata Sara e anche Alex ha sbagliato sempre sbagliato Alex esci fuori da qui hai capito? devo uscire da qui sicuro? ok siamo rimasti tu ed io Sara il sole è caldo o freddo? penso sia caldo è molto caldo sì ma questa era facile Jason fa domande facili ottimo lavoro Sara Alex stai in silenzio ti avevo detto di uscire giusto ma adesso tornerai qui va bene? oh sì sto tornando professore eccomi di nuovo in classe professore bene ragazzi è l'ora dei compiti no sì no no non li voglio fare i compiti devi fare i compiti adesso è chiaro? ah sono caduto per bene ops non ce la faccio guardate l'insegnante l'insegnante è caduto ehi voi due non fate troppo i furbi ci si può fare del male lo sapete è vero non fatelo mai a casa va bene